Due uomini di 37 e 42 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria perché ritenuti responsabili di una rapina perpetrata all'interno del parcheggio di un supermercato e danni di una coppia. I due, secondo quanto riferito, dopo aver bloccato e minacciato i malcapitati, hanno aggredito l'uomo portandogli via un borsello che indossava a tracolla, tentando poi di darsi alla fuga. Gli agenti delle volanti intervenuti sul posto, grazie alla segnalazione alla sala operativa effettuata dalla donna, hanno individuato e bloccato nel parcheggio del supermercato uno dei due rapiratori. Il 37enne, ex sorvegliato speciale con precedenti, all'esito della perquisizione a cui è stato sottoposto, è stato trovato in possesso del borsello. Poco distante, con l'ausilio del personale dell'ufficio di polizia di frontiera aerea, gli operatori hanno individuato anche il presunto complice, un 42enne, titolare di un'autocarrozzeria, con precedenti per furto aggravato e omicidio colposo, fuga a seguito di sinistro con lesioni. Le vittime della rapina hanno riportato lesioni al setto nasale e traumi alla mano. I due presunti autori sono stati sottoposti, uno ai domiciliari e l'altro all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I due presunti autori sono stati sottoposti, uno ai domiciliari, uno ai domiciliari,